Ciao a tutti! Oggi prepareremo le linguine cremose con piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono piselli, formaggio spalmabile, ricotta, linguine, cipolla, acqua, olio, sale, pepe e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Rienire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Rieniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i piselli. Facciamo insaporire per 5 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua che deve essere calda, il pepe, il sale e la noce moscata. E facciamo cuocere per 20 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo andiamo a cuocere la pasta. Aggiungiamo la ricotta, il forbangio spalmabile. e facciamo amalgamare per un minuto, anti-orario, velocità 2. Il nostro condimento è pronto. Trasferiamolo in una ciotola capiente e andiamo a scolare la pasta e condiamo. Amalgamiamo delicatamente. Andiamo a impiattare. Minguine cremose con piselli Grazie e alla prossima ricetta Grazie. Grazie a tutti.